Sono Filippo Bertasini, faccio parte dell'azienda agricola Bertasini di Villa Franca di Verona. Noi alleviamo 750 bovini, di cui 350 in lattazione. Il nostro latte va a destinazione come grana padano. Inoltre all'allevamento coltiviamo una superficie di 150 ettri, destinati in parte al mais, all'erba medica, che dopo andremo a utilizzare per l'alimentazione delle nostre bovine. Una particolarità della nostra azienda è che nel 2000 marzo 2022, circa un anno fa, abbiamo deciso di adottare una mungitura robotizzata. Abbiamo acquistato tre robot, Gea Bellucci, per diverse scelte. Inizialmente per una miglior gestione del personale, per un miglior benessere animale e anche per un insieme di dati che il robot ci può fornire e ci permette di allevare al meglio i nostri animali. Tutti i dati che ci fornisce il robot di mungitura vengono trasferiti sul nostro computer aziendale, grazie ai quali possiamo capire in che condizioni di salute sono i nostri animali e intervenire se necessario. Grazie ai robot siamo riusciti a gestire meglio le ore lavorative, soprattutto per i dipendenti. Ci ha permesso di avere un impegno diciamo minore nei confronti dell'allevamento. Abbiamo la possibilità di mungire animali più di due volte al giorno, addirittura tre o quattro, mentre in sala mungitura sarebbe una cosa che ti condizionerebbe troppo la vita.